Ciao, sono Grazia. Vengo da un paesino in provincia di Bari. Circa due mesi fa ho cercato questo dottore. L'ho scelto perché effettuava la rinoplastica ultrasonica, che non è come la rinoplastica normale, perché ho sempre sognato di farlo, ma non volevo qualcosa di troppo forte, che avesse un impatto così forte su di me, perciò ho scelto la rinoplastica ultrasonica e il dottor sale bravissimo. Ovviamente siamo arrivate qui, ci sono venute a prendere dall'aeroporto la limousine, cioè oddio la limousine, la macchina bellissima, tipo limousine da dentro. Siamo arrivate in hotel, tutti molto gentili, tutto molto bello, cinque stelle. Abbiamo fatto la visita al giorno dopo. Ovviamente non conoscendo effettivamente ogni parola precisa in inglese, abbiamo avuto un traduttore per le parole specifiche dell'operazione, perché si parla di cosa vuoi effettivamente, delle tue aspettative, ovviamente lui ti spiega cosa può fare e cosa non può fare, perché è molto realistico e ti consiglia il più possibile, quindi approvato. E niente, al giorno dell'operazione sono tutti molto gentili, ovviamente io non sapevo esattamente cosa avrebbero fatto prima dell'operazione, perché avevo paura e non neanche cercato, però sono stati molto... ti tranquillizzano un sacco, insomma. E niente, dopo l'operazione vengono tipo cento volte, cento volte in due per controllare come stai, ti chiedono, poi io, ok, torni notte alle... Thank you so much.